Onore ai campioni del CUS e agli studenti di Camerino al Palasporto Universitario di Le Calvie in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico e scolastico sportivo che ha richiamato in città i vertici dello sport regionale e campioni di varie discipline. Per la prima volta il CUS e Unicam, insieme all'amministrazione comunale sempre vicina e a sostegno della pratica e degli eventi sportivi, hanno voluto dare il via ufficialmente all'attività didattica, formativa e agonistica a distanza di un anno dal terremoto. Lo sport Camerte e tutti i suoi praticanti e collaboratori, insieme alle strutture universitarie e comunali, sono stati impegnati fin da subito nell'emergenza post-sisma con grandi sacrifici a sostegno dei propri cittadini. Presenti anche i dirigenti dei distretti scolastici, delle scuole primarie e medie e di quelle superiori di secondo grado, nonché tanti giovani studenti. Oggi per noi è una giornata di grande emozione. L'anno scorso, poco dopo questo periodo, vivevamo una fase di emergenza dove gli impianti sportivi sono stati molto utili all'accoglienza delle persone che avevano bisogno, ma anche a svolgere delle attività ricreative per quei ragazzi, bambini e studenti che non avevano più le sedi scolastiche, universitari, non avevano più le loro piazze, i loro giardini e le loro sedi e le associazioni. Vorremmo però tornare alla normalità. La normalità per noi è fare sport, perdere ma soprattutto anche vincere. In quest'anno forse ci eravamo un po' persi da questo punto di vista, ma non si erano persi i risultati. Siamo tornati a vincere delle medaglie d'oro da acento e bronzo alle campionate nazionali l'Università di Catania e poi è arrivata anche una bella medaglia d'oro dalle Universiadi. Abbiamo vinto anche qualche campionato federale. In questo contesto quindi abbiamo detto vogliamo tornare allo sport. L'emergenza l'abbiamo affrontata, affronteremo le conseguenze dei danni, ma si deve tornare alla normalità. La normalità significa proprio questo. In questo senso quindi vogliamo dedicare un momento a premiare i nostri campioni e anche in qualche modo a mettere insieme i ragazzi dei licei, del liceo sportivo, dei licei delle scuole elementari e medie che frequentano i nostri impianti sia la mattina per la scuola sia il pomeriggio nelle sezioni agonistiche e quindi dare un momento, dedicare un momento per loro. E vorremmo quindi tornare al nostro obiettivo che è quello di sport, giovani, formazione e territorio. In un territorio che è bellissimo e idoneo ad ospitare la formazione sportiva di tutti i ragazzi che vorranno. Lo sport per noi è un elemento di fondamentale importanza. Strategia che curiamo oramai da diversi anni. Lo dimostrano le borse di studio e le agevolazioni che abbiamo messo in campo per i nostri atleti e per chiunque voglia intraprendere un'esperienza sportiva contestualmente all'esperienza universitaria. Oggi la giornata è particolarmente importante perché mettiamo insieme l'inaugurazione dell'anno scolastico sportivo con l'inaugurazione dell'anno accademico sportivo. Anche questa è una filiera che ci sta particolarmente a cuore, quella della scuola e dell'università ed è bellissimo che in questa filiera lo sport praticato da giovani e giovanissime generazioni trova proprio nel filo conduttore e che unisce tutta la filiera scolastica. Siamo molto felici della partecipazione, della rappresentanza ovviamente delle pubbliche amministrazioni, dei territori ma anche del mondo dello sport regionale e nazionale. Io oggi devo dire grazie al CUS Camerino, al Presidente Belardinelli, a Roberto Cambriani che è veramente una macchina lavorativa infaticabile e che hanno ideato questo splendido momento che porta certo la firma dell'Ateneo e la firma del Comune di Camerino ma che vede come cuore pulsante quello dei soggetti che ho appena citato e che vivono una quotidianità di lavoro accanto alle istituzioni. Siamo certi di riuscire, il lavoro quello vero inizia adesso perché abbiamo per usare un termine ormai noto e caro, puntellato tutto ciò che c'era da puntellare, non mi riferisco alle costruzioni oggi dobbiamo restituire, come dicevo poc'anzi, questa terra a tutti questi giovani. L'impegno è forte, è reale ed anche il grande credo e quindi è questo anche il motivo che mi spinge oggi ad essere qui anziché su un tavolo nazionale dove ero relatore ma io non posso abbandonare la mia terra, non posso abbandonare i miei figli io da qui non mi muovo e lavoro quotidianamente per questa gente che è la mia gente. Nell'occasione premiati anche gli atleti del Cus Camerino che si sono distinti ai campionati nazionali 2017 e ad altri eventi internazionali. Fra questi la squadra di calcio a 5, i pongisti campioni italiani nel doppio maschile e i judochi medagliati. Su tutti la campionessa universitaria e primoro mondiale azzurra alle università di nel judo femminile a Taipei nell'estate scorse la campionessa Valeria Ferrari della Guardia di Finanza. È stato un anno un po' particolare perché è iniziato un po' con difficoltà poi comunque ci siamo allenati duramente e alla fine i risultati sono arrivati e questa è stata la grande soddisfazione. e una giornata come questa è una giornata dove non è solo la mia celebrazione ma è la celebrazione di tutti veramente, è la vittoria dello sport. Ospite d'onore il campionissimo di Fioretto Valerio Aspromonte campione olimpico a Londra, anche lui come la Ferrari appartenente al gruppo sportivo di Fiamme Gialle della Guardia di Finanza. Sono contentissimo di essere stato invitato qui questa mattina sono felicissimo di premiare un'altra grande campionessa e sono felice soprattutto perché vengo a vivere una realtà che ha sofferto particolarmente in questo periodo. Ho parlato anche con il vostro presidente che è stato gentilissimo che mi ha invitato e che mi ha fatto capire quanto è stato importante anche l'avere queste strutture sportive qui in questa zona per poter ospitare le persone, per far riprendere l'attività sportiva anche per i bambini. Quindi c'è una doppia felicità per me per essere qui oggi. Al termine esibizione dimostrativa dei campioni del Cus Camerino di tennis tavolo e giudo. A margine dell'evento è stata inaugurata a lungo via Madonna delle Carceri nell'area di proprietà della famiglia Cambriani concessa gentilmente al Cus una casetta in legno che fungerà da riferimento uffici e da foresteria per i studenti universitari e sportivi. La struttura è stata donata dalla TV di Verona. Come primo intervento abbiamo donato una roulotte perché serviva per i ragazzi qui di Camerino credo dell'associazione, io non crollo, adesso vado a memoria perché l'hanno utilizzata per andare a fare i sopralluoghi nelle aree evacuate e nel contempo mentre stavamo sviluppando quel progetto ho pensato di cancellare la tradizionale serata aziendale che faccio con i nostri dipendenti, aggiungere una quarta parte di denaro dalle casse dell'azienda e abbiamo deciso, visto che c'era la necessità di avere anche qualche struttura di avviare appunto il progetto per la costruzione di una casa in legno da destinare agli usi che erano ritenuti più impellenti. Come avete visto la struttura è una bella struttura, importante se ho capito bene verrà utilizzata come foresteria, ci sono due camere da letto c'è un'area living, un'area ufficio abbastanza importante sappiamo che è una piccola cosa in un'area che necessita di interventi molto più importanti e corposi di questo però spero che sia un segnale per far capire ai cittadini di Camerino che comunque da qualche altra parte in Italia c'è qualcuno che pensa anche a loro.